Convergenze SPA è stata ammessa da Borsa Italiana SPA alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant denominati Warrant Convergenze SPA SB 2020-2023 sul mercato AIM Italia. Voglio ringraziare tutto il gruppo di lavoro composto da collaboratori interni e consulenti che hanno creduto in noi e nella nostra potenzialità, i nostri clienti che ci onorano della loro fiducia e sono per noi motivo di orgoglio e non da ultimo gli investitori che con la loro partecipazione al capitale ci hanno permesso di tagliare questo primo prestigioso traguardo del nostro lungo percorso di crescito, commenta Rosario Pingaro, presidente e amministratore delegato di Convergenze SPA.